Il professor Sbadotto. Il professor Sbadotto aveva appena finito di costruire una macchina e voleva provarla. Era il marchingegno più complicato che avesse mai realizzato e ne era orgoglioso. Il professore chiamò il suo assistente perché fosse presente all'accensione della macchina. Però, mentre il professore era sempre più emozionato, l'assistente invece sembrava molto preoccupato e perplesso. A che cosa serve questa macchina? chiese timidamente. Il professore si grattò il capo e pensò. Oh, povero me! sospirò. Che sciocco sono stato! Perché non ci ho pensato? non serve assolutamente a niente!